Pezzi da 90 A colloquio con, e qui lo scherzo è inevitabile, vi potrei dire, con Sylvester Stallone con Bill Cosby, quello dei Robinson, che vediamo ogni domenica, bravissimo e sentiamo ma sono molto più onorata di dire a colloquio con Ferruccio Amendola, ben trovato Grazie, buongiorno Dunque, Ferruccio Amendola, la voce, The Voice, gliel'hanno detto The Voice? Sì, sì, in Italia pare che sia nominato The Voice, il famoso Frank Sinatra per l'America e io per l'Italia E quando parla, normalmente la tiene un pochino in ribasso, apposta? Sì, ma io parlo sempre abbastanza pacatamente, non mi piace mai alzare il tono anche perché trovo che ci si esprima meglio parlando con voce bassa Ferruccio Amendola poi ha cominciato a calcare le tavole del palcoscenico dai cinque anni di età Sì, cinque credo, ancora non sapevo leggere, mia nonna mi insegnò il testo, le cose che dovevo dire io lo imparai a memoria e fui sbattuto su un palcoscenico come tutti noi nipoti, tutti noi bambini venivamo proiettati così sulla ribalta in questo modo perché serviva un bambino e allora... Si attingeva in famiglia? Certo, era il luogo più... E se lo ricorda che cos'era questo primissimo ruolo? Dunque, io fui fortunato perché debuttai in una compagnia primaria con Besozzi Falconi e il lavoro si chiamava Il Compleanno e io dovevo dire poche battute un bambino che voleva una certa mela non so, stavo a tavola sulle gambe di Falconi e cercavo di prendere la mela più bella della tavola che stava dalla fruttiera adesso mi ricordo anche la scena, grosso modo, così però non mi ricordo certo le battute Ferruccia Mendola ha una vita da attore in teatro, in cinema, in televisione ma poi ha preso come il sopravvento il ruolo del doppiatore nella sua vita? Sì, quando finalmente mi hanno scoperto perché inizialmente mi affidavano dei ruoli nei quali mi esprimevo dicendo buongiorno, buonasera e basta poi avevo finito il ruolo Quindi gavetta? Un gavettone proprio enorme, sì perché pare che la mia voce non fosse giusta che il mio accento si sentisse troppo romanesco comunque insomma ho tirato un po' la carretta poi sono esploso con Dustin Hoffman e da allora poi mi hanno bombardato di personaggi, di attori ho fatto tutti praticamente tutti quelli che faccio ancora insomma Con Dustin Hoffman, l'uomo da marciapiede? Sì, avevo iniziato con lui con un uomo da marciapiede Lei ha un rapporto con qualcuno di questi grandi attori che doppia? Sì, li ho conosciuti, ho conosciuto sia Hoffman che De Niro Stallone no, ma Al Pacino per esempio che ho doppiato per tanto tempo adesso non lo doppio più, lo doppia Giancarlo Giannini ma fino a quando l'ho doppiato l'ho anche conosciuto sì, certo, loro all'epoca mi ricordo ci tenevano che sapere chi era il doppiatore anche ascoltare i doppiaggi in italiano e in effetti ci sono anche episodi così che ricordo legati a Dustin Hoffman lui mi disse proprio bravo Ferocio, hai capito tutto quello che volevo dire lo hai ripercorso esattamente come avevi fatto io solo che Dustin Hoffman sono io, mi disse A proposito di personaggi, lei diceva che adesso Al Pacino viene doppiato da Giancarlo Giannini quando uno perde un personaggio si dispiace o gliel'ha affidato dicendo trattamelo bene? no, non gliel'avrei neanche affidato onestamente perché ero abbastanza legato a quel personaggio e appunto si è dispiaciuto? beh, puoi immaginare, certo però queste cose accadono nel nostro ambiente e così poi finiscono per instaurarsi dei nuovi rapporti adesso non lo sento più neanche mio insomma ormai ma era suo nel padrino? eh, non solo nel padrino, ne ho fatti 7-8 di film con lui anche belli, che mi hanno dato soddisfazione mi ricordo Scarface per esempio Scarface è un film che ha avuto molto successo in Italia quando uscii mi fecero tanti complimenti perché avevo proprio indovinato la tensione giusta per quel film con lui ho avuto dei bei momenti anche ci dà un'idea di questa sua voce? come si gioca? come la usa? cioè lei la differenzia da un attore all'altro? se no parlerebbero tutti nello stesso modo? beh, in effetti io credo di differenziarla molto perché io non dubbio D'Assino o Al Pacino o De Niro io dubbio i personaggi che loro mettono in scena e siccome loro inventano sempre personaggi nuovi ogni nuovo personaggio ha delle caratteristiche diverse adesso alcuni si sono anche ingrassati per interpretare certi ruoli e io ho dovuto mettere una voce grassa oppure addirittura in tutti si fanno una donna e io ho dovuto trovare anche una voce femminile nell'ambito del mio corpo insomma c'è sempre da rovellarsi il cervello per cercare di essere quello che sta sullo schermo e lei studia questi personaggi molto tempo prima di entrare in sala di doppiaggio? no, no, guarda io vado a vedere il film in lingua originale poi vado a casa e mentre sto in macchina comincio a provare la voce che secondo me è giusta per quel tipo di personaggio anzi sono sfottuto anche delle persone che hanno le macchine vicino alla mia e camminiamo insieme e mi vedono parlare da solo però ecco non faccio uno studio faccio delle prove che poi finiscono lì perché nel momento stesso in cui comincio a doppiare il film incido alla prima scena poi la risento se va bene è bene se no magari cambio una cosa dopodiché parto e vado una vita piena di parole una vita piena di sentimenti degli altri di ideali, di difetti, di virtù eccetera ha assorbito molte cose di tutto questo lungo percorso? beh sì, alcune sicuramente sì altre le ho rubate agli attori che ho doppiato molte cose mi sono rimaste dentro Rambo Rambo lei lo ha amato o detestato questo Reduce sfortunato? no, io l'ho amato l'ho amato perché era c'era dei momenti molto umani soprattutto il primo insomma c'è una scena finale in cui piange, si dispera lui anche, devo dire, anche Stallone è stato bravo in quella scena io non ho faticato a doppiarlo perché lui era giusto come intensità emotiva c'è un personaggio che gli è piaciuto più di altri? eh, faccio fatica a sceglierne uno fra i tanti perché ce ne sono molti che mi hanno lasciato il segno sicuramente uno di questi è Il Cacciatore e De Niro nel Cacciatore è una bella performance quella forse anche Cramer contro Cramer è un film che mi ha toccato molto nel suo settore personale di paternità? sì certo, così come New York, New York per esempio ecco, era un film che ho doppiato con la mia ex moglie lei era Liza Minelli, Rita Savagnone che era mia prima moglie e io era Robert Benino e nel film loro si lasciano e noi ci stavamo lasciando per cui ho vissuto un po' quel momento del doppiaggio, mentre stavamo facendo il doppiaggio al pari degli attori di presa diretta anche noi nella vita reale stavamo subendo lo stesso così, dramma perché tutto sommato è sempre un dramma che subivano gli attori quindi è stato difficile non so, le scene d'amore è stato molto emozionante è stato sofferto Ferruccio Amendola è vero che gli amici le chiedono di registrare i messaggi nella loro segreteria telefonica con la voce dei vari attori che lei doppia? sì, e siccome me lo chiedono tutti non l'ho fatto nessuno ah, ecco chi è Ferruccio Amendola? una persona riflessiva non so, un pochino triste forse adesso riservata o timido? sì, tutto quello che lei ha detto, credo e in più? e in più anche con con tanta voglia di di fare ancora perché nonostante io non abbia più un'età verde sento ancora tanta voglia di presentarmi al pubblico di far vedere che so fare e poi è una persona sempre molto partecipe dei grandi problemi della nostra realtà? beh, come tutti come tanti, diciamo io sono la voce ufficiale della pubblicità progresso diciamo, ecco ultimamente ho ricevuto tanti complimenti come non ne ho avuti per nessun film doppiato per uno spot sui bambini che ho fatto a proposito quello è bellissimo è toccante grazie proprio a come lei dice quelle parole sì, in effetti è stato un grosso successo pezzi da 90 punto rai punto it